POPPUN Finisco due cose con Poppun e ci sono. Dai, mangia questo. A furia di dargli da mangiare, Poppun diventerà peggio di te con il cibo. Ma come faccio a dirgli di no? Guarda com'è felice quando mangia. Come mi prendo cura di te io, nessun altro. Sì, è vero, Poppun. Almeno non ti lascio in giro. È successo solo una volta. E se vai avanti così, non ti faccio più copiare i compiti di inglese. Perché hai i compiti di matematica di Jasmine? Beh, lei mi aiuta in matematica e io aiuto Julie in scienze. Sei impegnata tanto, tantissimo, anche a colorarlo benissimo. Ci sono anche dei cuoricini di fianco tutti i nostri nomi. Che carino. Anch'io l'avevo vista, Emily. Ma che bello. Carino, con tutti i nostri colori. È come se il foglio fosse stato diviso in cinque parti e in ognuna delle parti c'è il nostro colore e il nostro nome. Questa qui disegnata è Rebecca. Si è disegnata anche lei, vestita da Miracle Tunes. Che carina, con il tamburello. Abbiamo un'altra Sweet Sisters. E con un colore bellissimo, verde petrolio. Wow. Che bello. È coloratissimo. È anche plastificato. È stupendo. Sì, infatti c'è. Così non si rovina. È tutto plastificato. E qua c'è un cuore dove ci sono tutti i nostri colori. Una bambina ha bisogno di noi. L'ultima verifica di matematica è andata male. Molti miei compagni sono andati bene perché hanno copiato. E non trovo giusto aver preso un voto più basso di loro. Visto quanto tempo ha passato a studiare. Solo che è una materia che proprio faccio fatica a capire. È il momento di trasformarsi. Jewel Sex. Miracle Tunes Final Transformation. Crystal Melody Tuning. Non demordere e soprattutto non abbatterti. Non è un brutto voto che rovina tutto. Non guardare quello che fanno gli altri, anche se loro hanno copiato. Tu vai fiera di te stessa per non averlo fatto. Piuttosto trova un compagno al quale piace la matematica e fatela spiegare. La matematica spiegata dagli amici è più facile e più divertente. Purtroppo è arrivato il momento di lasciarci. Ma non temete, torniamo presto. Ma prima volevo ricordarvi che... Io sono Julie. Io sono Emily. Io sono Jasmine. Io sono Charlotte. E io sono Sofia. E insieme siamo il Miracle Tunes. Ciao! 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 Ciao!